...a quello che ha detto Vanni, che ha fatto dei libri di testo che perlomeno la riforma del mini, l'unica cosa che vuol dire, è una delle poche buone che ha fatto, è stata quella di adottare un testo, di obbligare gli insegnanti ad adottare un testo per 5 anni. La riforma del mini, diciamo, si struttura su elementari e superiori, soprattutto perché poi non è soltanto un'interfattata a sé, e per le scuole elementari questa riforma è già entrata in vigore, soprattutto con la figura del maestro unico, figura comunque molto criticata, in quanto vengono abbassate le ore di didattica, infatti il maestro unico abbassa le ore.